ciao a tutti ragazzi abbiamo fatto il fly pass ho fatto per le linee rossa linea verde david ha fatto pure la linea nera io a me maretto costava troppo ciao a tutti no 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 ok bentornati qua siamo all'episodio numero 3 del bando tour 2024 oggi vi presento un nuovo bando che abbiamo trovato stamattina con davide vi saluta no 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 però c'è questi vari buchetti vari e poi anche un buco nel muro qua che ci porta in quest'altro posto figo molto figo però non si possa di sul tetto a meno che insiede l'homo ragno oh e andiamo a raccogliere il drone e boh non so dove sta ma sta proprio qua speriamo che si resti impassato tutto è sano bella 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 Grazie per la visione!